Musica Una mozione approvata a maggioranza per chiedere al ministro Raffaele Fitto chiarezza sul destino del fondo di coesione. Michele Emiliano e il centrosinistra pugliese rilanciano mentre rinvio sulla sfiducia a Sergio Clemente per l'ufficio di presidenza dell'Aula. I lavori del nuovo terminal passeggeri del porto di Bari sono iniziati e ad annunciarlo è stato il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, a margine delle celebrazioni per il 78esimo anniversario dell'esplosione della nave americana Charles Henderson. Francesca Michelin, Michele Kunz, Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Ron sono alcuni artisti del cast dell'1 maggio Libero e Pensante, il concertone di Taranto che compie 10 anni e mette al centro dell'edizione 2023 la parola d'ordine Libertà. Edizione della sera della nostra informazione ben ritrovati, apriamo con la politica nazionale. C'è l'accordo di maggioranza sul decreto legislativo Cutro, domani la votazione in Senato. Le regioni chiedono un confronto con il governo, intanto tiene banco ancora la polemica sulle parole del ministro Lolo Brigida. Una maxi proposta di modifica della maggioranza definita canguro e che avrebbe di fatto annullato la discussione e la votazione di gran parte degli emendamenti dei DEM, poi ritirata rasserena agli animi tra maggioranza e opposizione che trovano una chiave di discussione politica sul DL Cutro. La Lega è soddisfatta dell'accordo che abbiamo trovato sulla limitazione della protezione speciale perché questo fa parte di una strategia ampia del governo, che è quello di lanciare un messaggio molto chiaro che chi entra legalmente in Italia non ha la garanzia di restarci, anche perché il nostro obiettivo è salvare chi fugge dalle guerre e chi vuole arrivare in Italia attraverso i canali legali. Ma la questione resta ancora calda nonostante l'accordo in maggioranza per via di alcuni emendamenti della Lega. La battaglia che in queste ore faremo al Senato sarà fondamentale per far capire anche agli italiani la differenza tra la destra e la sinistra in questo paese, tra chi utilizza la disperazione dei migranti e non solo non risolve i problemi, aumenterà il caos anche purtroppo sulla pelle dei più deboli, sulle spalle degli amministratori locali. Le parole del ministro Francesco Lollobrigida, non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica, irritano ancora le opposizioni. Oggi parlare di sostituzione etnica significa voler usare un'arma di distrazione di massa rispetto a tutti i problemi che abbiamo. Poi questo governo si mette d'accordo con se stesso. Nel DEF hanno scritto che ovviamente i migranti e gli immigrati ci servono anche per ridurre il debito, abbiamo un sistema pensionistico che non si legge in prospettiva e dall'altro poi fanno queste crociate di segno reazionario. E al ministro Lollobrigida che mi dice ah perché mi attaccano perché non hanno proposte, ho una bellissima proposta per lui. Non di grave stialità di questo tipo, noi saremo più felici. Continuiamo con la politica. Una mozione approvata a maggioranza per chiedere al ministro Raffaele Fitto chiarezza sul destino del fondo di coesione. Michele Emiliano e il centrosinistra pugliese rilanciano mentre è rinvio sulla sfiducia a Sergio Clemente per l'ufficio di presidenza dell'Aula. Sentiamo Antonio Bucci. Una mozione approvata a maggioranza in consiglio regionale per chiedere al ministro Raffaele Fitto chiarezza sul destino del fondo di coesione. Michele Emiliano e il centrosinistra pugliese lo avevano annunciato nell'escursione chiamando il titolare della delega nell'esecutivo di Giorgio Meloni a riferire direttamente in Aula sulle risorse. 48 miliardi di euro in tutto. Ma senza sapere se una parte di questi soldi siano stati adoperati o meno per altri utilizzi, spiegano da via gentile senza la complicità del centrodestra che contesta invece le difficoltà nell'ente nel fornire agli uffici della capitale la rendicontazione necessaria al monitoraggio che dal governo si chiede agli enti locali per sbloccare i fondi. Il nodo insomma è tutto politico e resta lì esattamente come quello sull'ufficio di presidenza. Niente mozione di decadenza e danni del centrista Sergio Clemente a rischio impugnativa ma neppure la votazione per decidere il successore di Gian Diego Gatta in quota alla ignoranza si concretizza tanto più dal momento che il presidente della seconda commissione Antonio Tutolo propone di abolire tutti i benefici connessi alla carica per uscire dall'impasse e dal momento che i fratelli d'Italia accusano la maggioranza di avere in realtà come obiettivo anche la poltrona in quota all'opposizione per il momento intanto non se ne fa nulla. Ieri e oggi si sono tenuti due consigli regionali se uno dovesse chiedermi cosa avete prodotto io gli dico zero se non le pantomime le sceneggiate di Emiliano ieri abbiamo iniziato tardissimo perché lui era impegnato in altre cose e chiaramente la maggioranza se non c'è Emiliano non è nelle condizioni di andare avanti è arrivato Emiliano e ha preteso che si votasse una mozione contro il governo nazionale durante il dibattito Emiliano ha abbandonato l'aula la seduta è stata rinviata ricominciamo questa mattina dopo ore di dibattito falso, bugiardo di un presidente di regione che vuole solo utilizzare il Consiglio regionale per attaccare il governo nazionale e continuiamo a parlare di Michele Emiliano perché dopo un'attesa di 5 ore ha incontrato i candidati sindaco di Francavilla a Fontana focus sul blocco dei ricoveri del reparto di ginecologia al Camberlingo dove al momento non sembra esserci una valida soluzione Michele Jurraro soluzioni ponte per accelerare i tempi oltre a procedure straordinarie di assunzione e vabbè e poi la promessa di un interesse vivo e costante sul futuro al momento piuttosto nebuloso tanto del reparto quanto del nostro comio dopo un'attesa di oltre 5 ore l'incontro era fissato per le 11 di mercoledì mattina in via Gentile il governatore di Puglia Michele Emiliano ha finalmente incontrato una delegazione composta dai candidati sindaco Antonello Denuzzo Michele Iaia e Maria Passaro con al seguito anche il presidente della provincia di Brindisi Tony Matarrelli e i consiglieri regionali vessapici al centro del tavolo il blocco dei ricoveri nel reparto di ginecologia e ostetricia del Camberlingo e quindi lo stop alle nascite nell'ospedale di Francavilla Fontana fino al 15 maggio almeno soluzioni? Tante quelle prospettate poche, quelle fattibili nel breve tempo sembra confermarlo lo stesso assessore alla sanità Roccopalese Ma noi stiamo seguendoci con particolare attenzione e anche preoccupazione la situazione che si è venuta a creare presso il presidio ospedaliero di Francavilla sulla situazione in particolare della sospensione dei ricoveri in ostetricia stiamo cercando in tutti i modi e in tutte le maniere con provvedimenti di urgenza cercando la disponibilità di ostetrici da poter immediatamente inviare e riattivare fermo restandoci che la soluzione definitiva noi pensiamo che possa essere assunta abbastanza tranquillamente con l'espletamento del concorso che ci sarà il 18 di maggio sperandoci che si presentino, perché anche questo è un problema, i candidati e che poi superano questo concorso per poter essere assunti Per il resto Emiliano ha cercato di rassicurare i presenti chiedendo allo stesso tempo l'aiuto del territorio eppure alla fine la sensazione è che la soluzione, quella perfetta, neppure esista e che i guai di ginecologia al Camberlingo siano tutt'altro che neonati al netto del fair play chiesto dal governatore se ne riparlerà di sanità in campagna elettorale All'evento l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli tra efficienza e legalità alla Camera dei Deputati il direttore generale Alesse dice siamo pronti ad offrire il nostro contributo per la riforma del gioco pubblico ma dal 2024 stop alle proroghe e alle concessioni Pronti ad offrire il nostro contributo per la riforma del gioco pubblico lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia delle Dogane Monopoli di Stato Roberto Alesse rimarcando la necessità di tutela e aggiornamento tecnologico del gioco anche per garantire maggiori entrate erariali Per Alesse quello dei giochi e delle scommesse è un settore che ruota attorno ad un rilevante indotto industriale dal quale è possibile reperire maggiori entrate le concessioni in corso salvo nuove disposizioni ha annunciato nella sua relazione non saranno più prorogate a partire dal 2024 in tal senso deve esserci un costante aggiornamento di concerto con la Guardia di Finanza e Governo per contrastare in tutti i settori l'illegalità Intervenire contrastando appunto degli illeciti abbiamo visto che già esistono delle disposizioni tipo la confisca per sproporzione il contrasto a tutti i fenomeni dei tabacchi lavorati le misure anticontrabbande quindi cercheremo di potenziare queste misure ma al tempo stesso di semplificare per esempio le sanzioni amministrative tenendo conto della proporzionalità e della predeterminazione Per Alesse le Dogane del UE hanno bisogno di un cambiamento strutturale ed urgente per affrontare le sfide moderne come i nuovi modelli commerciali il nuovo contesto geopolitico, la transizione ecologica c'è bisogno di procedure e norme più semplici per garantire la difesa dell'Europa dice l'Italia, ad esempio, ha bisogno di nuove tecnologie Sicuramente faremo un santo in avanti e potremo essere i primi soggetti in Europa a far funzionare bene senza perdere di vista i contenuti che sono importanti perché hanno a che fare con la sicurezza con la contraffazione con lo smercio di sostanze proibite quindi insomma con queste attenzioni riteniamo che possiamo guardare con ottimismo al futuro Curso firma per Melfi e stanzia 20 milioni di euro per il settore automotive il ministro delle imprese del Made in Italy ha sottoscritto il decreto per il riconoscimento dell'area di crisi complessa nel comparto industriale San Nicola nel Potentino, uno dei principali della regione Basilicata un risultato storico Le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale complessità che deriva come nel caso specifico della zona industriale di San Nicola di Melfi sede di uno dei più grandi stabilimenti Stellantis del mondo dalle trasformazioni che interesseranno prevalentemente il settore dell'automotive in vista del passaggio alla produzione di veicoli elettrici passaggio questo che rimodulerà l'organizzazione anche dal punto di vista occupazionale di Stellantis in primis e di tutto l'indotto la notizia della firma da parte del ministro delle imprese del Made in Italy Alfonso Urso del decreto di riconoscimento dell'area di crisi complessa per San Nicola di Melfi che garantirà inizialmente risorse finanziarie per 20 milioni di euro è stata lanciata con grande soddisfazione dall'assessore alle attività produttive della regione Basilicata Alessandro Galella che parla di risultato storico per la Basilicata ottenuto in tempi record un successo di questa giunta afferma il presidente Vito Bardi che sottolinea la massima attenzione che il suo governo ha sempre posto sull'area di Melfi L'impegno dei 20 milioni di euro, spiega il presidente della regione Basilicata saranno finalizzati alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività, il rafforzamento della struttura produttiva la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero Per Gianni Rosa, grazie a questo riconoscimento per il quale sostiene il senatore di Fratelli d'Italia va ringraziato il primo ministro Meloni per la grande attenzione che ha dimostrato per la Basilicata in tempi brevissimi saranno messi in campo gli strumenti per la tutela dei posti di lavoro e per il rilancio della filiera automotive di Basilicata Per l'onorevole Salvatore Caiata si tratta di una misura che guarda non solo al futuro della nazione ma soprattutto a quello dei suoi cittadini che nella sua regione, rimarca il parlamentare Meloniano Lucano danno un contributo significativo al substrato economico dell'intero paese ed annuncia anche la pubblicazione dei primi bandi per i progetti di riqualificazione e riconversione produttiva della filiera soddisfazione per il riconoscimento ottenuto è arrivata anche da parte di diverse sigle sindacali Sono senza lavoro dal 17 marzo scorso oltre 100 lavoratori dei centri per l'impiego della regione pugliana e anche gli incontri con la task force di Caroli hanno dato risultati concreti Antonella Fazio Noi abbiamo assicurato il servizio nei centri per l'impiego per 22 anni consecutivi e da un giorno all'altro ci hanno messo fuori la porta Sì, ma lei da quanti anni lavora? Io da 40, anzi a giugno faccio 42 anni però purtroppo non ho ancora tutti i mesi compatibili per poter andare in pensione Quanto le manca? Mi mancano almeno 7-8 mesi Io lavoro da 39 anni e mi mancano 3 anni e mezzo Chi qualche mese, chi qualche anno ma per molti la pensione è ancora lontana In totale sono oltre 100 i formatori utilizzati nei centri per l'impiego della regione Puglia che dal 17 marzo scorso sono rimasti senza occupazione e a nulla sono serviti gli incontri con la task force guidata da Leo Caroli che si sarebbe impegnata, dicono i sindacati, a reperire le risorse necessarie a garantire continuità del reddito un incentivo all'esodo per i formatori storici e un progetto di ricollocazione nei servizi per l'impiego o nella formazione professionale che garantisca una prospettiva temporale di impiego adeguata e concreta ma nonostante tutti gli annunci pare che nulla sia stato ancora risolto Dalla task force per responsabilità grosse della regione non è arrivata nessuna proposta concreta al punto tale che noi nell'ultimo incontro siamo stati costretti come Will ad abbandonare il tavolo Tutte le soluzioni che ci hanno state proposte in realtà non si stanno concretizzando in questo momento se non un minimo di affidamento su cassa integrazione, su ammortizzatori sociali Molti lavoratori sono prossimi alla pensione due o tre anni Per loro la politica dovrebbe trovare una soluzione che li accompagni alla pensione in maniera decorosa In retroscena del misterioso incendio che distrusse un'azienda vent'anni fa sono emersi nel corso del processo per il duplice omicidio di imprenditori di casalinghi in corso davanti alla corte di Assise di Brindisi Gianmarco Di Napoli Un incendio rimasto misterioso per vent'anni e che alla luce di quanto scoperto dopo potrebbe avere finalmente una spiegazione è quello ricostruito da un testimone nel processo davanti alla corte di Assise di Brindisi per gli omicidi degli imprenditori di casalinghi Salvatore Cairo e Sergio Spada avvenuti tra il 2000 e il 2001 e per i quali sono imputati i fratelli Cosimo ed Enrico Morleo Sandro Annichiarico, cognato e all'epoca anche socio e braccio destro di Spada ha raccontato del progetto che stavano portando a termine prima che l'imprenditore fosse ucciso di acquisire un grande capannone nella zona industriale di Brindisi per dare una nuova sede alla società, la Cookingmatic per meglio gestire i venditori porta a porta alla luce dei progetti espansionistici in Russia della Diamant i due seppero che anche Cosimo Morleo era interessato alla stessa struttura e quando Spada venne ucciso Annichiarico ha raccontato di aver avuto paura ad acquisire quel capannone decise di rimanere con la sua azienda nella vecchia sede di via Islanda a Rione Bozzano perdendo anche i 50 milioni di lire versati come acconto per l'acquisto del capannone per il timore fondato alla luce di quanto emerso dopo che proprio quell'affare fosse il movente del delitto ma nonostante la sua rinuncia nel 2003 un incendio distrusse tutto merce, arredi, due furgoni e il soffitto per l'azienda rimasta nelle mani del cognato di Spada fu la fine nell'udienza di martedì è comparsa come testimone anche una segretaria dell'imprenditore ucciso che ha confermato di essere stata contattata da Cosimo Morleo qualche tempo dopo l'omicidio di Spada con la proposta di andare a lavorare da lui a Foggia un ordigno è stato fatto esplodere all'interno di una palazzina di via Silvio Pellico causando panico tra la popolazione Antonella Lavoro potrebbe trattarsi di un atto vandalico così come di una vera e propria intimidazione nessuna pista è esclusa sono ancora in corso le indagini della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto a Foggia intorno alle ore 20 di martedì 18 aprile quando un ordigno rudimentale a quanto pare una bomba carta è stato fatto esplodere in via Silvio Pellico nei pressi della chiesa San Ciro sul pianerottolo del terzo piano di una palazzina tanta la paura tra i residenti della zona che dopo aver sentito il forte boato si sono subito riversati in strada sul posto sono giunti i vigili del fuoco per bonificare e mettere in sicurezza la zona anche grazie al supporto di un'autoscala e che inizialmente temevano una fuga di gas così come gli agenti della squadra mobile e gli operatori del 118 per fortuna non si registrano feriti per quanto concerne i danni causati dalla deflagrazione al momento non sono stati quantificati con precisione ma a quanto si apprende la porta di una delle due abitazioni del piano attualmente disabitata è andata parzialmente distrutta un incendio devasta il ristorante lo scoglio delle sirene di Gallipoli investigatori al lavoro e non si esclude la pista del dolo Paolo Franza fiamme nella notte in uno dei ristoranti più frequentati di Gallipoli lo scoglio delle sirene situato sulla riviera Nazzaro Sauro l'incendio ha distrutto completamente il gazebo esterno tavolini e sedie e si sono propagate all'interno provocando danni ingenti le lingue di fuoco si sono alimentate divorando il legno presente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno domato il rogo che si sospetta essere di natura dolosa ma spetterà gli agenti del commissariato di Gallipoli intervenuti insieme ai colleghi della scientifica a stabilire i fatti l'incendio potrebbe essere stato causato anche da un cortocircuito al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona il ristorante ha già avviato la sua stagione e anche la sera precedente era aperto regolarmente a Taranto polizia in piazza per una vita da social ce ne parla già Marco Sansolino i rischi che corrono sul web e quelli che corrono sulle nostre strade da una parte la postale dall'altra la stradale piazza immacolata Taranto diventa l'hub della polizia di stato per mettere in guardia da questi rischi i ragazzi degli istituti comprensivi e delle scuole superiori continuiamo su quelli che sono i percorsi che da tempo stiamo portando avanti nelle scuole con i ragazzi con i vari protocolli che abbiamo realizzato in questo ovviamente siamo aiutati dall'ufficio scolastico provinciale ma anche da altre strutture come la procura dei minori la stessa prefettura e questo ci consente di avvicinarsi ai giovani eccellenza la sicurezza di un territorio ormai passa anche da questi elementi anche i giovani ci devono dare una mano ma come vedete l'attrattiva della polizia di stato è molto alta e ripeto siamo fiduciosi che questo tipo di progetti possano portare un miglioramento sensibile già lo hanno fatto a bordo del track una vera e propria lezione i rischi maggiori che corrono sull'ebo quali sono? si è dipendenti a volte da questi strumenti fa sì che poi vengano pregiudicate le relazioni umane reali penso a chi magari anche non necessariamente ragazzo fornisce delle credenziali di accesso a propri conti correnti ragazzi prossimi alla patente o neopatentati su quali elementi li mettete subito in guardia? l'abuso delle sostanze stupefacenti e degli alcolici facciamo guardare uno scenario attraverso il fondo di un bicchiere stressiamo il concetto che a un certo punto la visione degli occhi sarà così il casco assolutamente per quanto riguarda la conduzione dei motoveicoli le cinture presentato il concertone dell'1 maggio Taranto 2023 organizzato dal comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti anche quest'anno diretta integrale su Antenna Sud tra i grandi nomi Michelin, Bersani, Fabi ma anche Frassica, Ron e tanti altri sentite dieci anni di un omaggio Taranto dieci anni dell'evento popolare completamente gratuito più importante d'Italia come lo ha definito Michele Riondino uno dei direttori artistici assieme a Diodato e Roi Paci la parola d'ordine del 2023 è libertà che accompagnerà il grido di dolore degli operai in casa integrazione del comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti di tutti coloro che chiedono la chiusura del centro siderurgico ma anche la voce di quelli che saliranno sulla palco in difesa di tutti i diritti dalla salute alla parità di genere provenienti da tutta Italia la conferenza stampa di presentazione è iniziata con le voci del comitato Riondino, Raffaele Cataglio, operaio Dilva Inaesse in cassa integrazione la presidente Simona Fersini Virginia Rondinelli che hanno sottolineato il fallimento della politica e delle strategie industriali del paese l'evento sarà preceduto come sempre dal dibattito politico del mattino comunicato l'intero cast ma in tanti sono rimasti fuori suoneranno sul palco Francesca Michielin, Gemitaiz, la rappresentante di lista Marlene Kunz, Nicolo Fabi, Samuele Bersani, Ron, Vinicio Capossela, Nino Frassi che è la sua band Renzo Rubino, Meg Mezzosangue, Vasco Brondi, Tonino Carotone, Luca De Gennaro, Kento, Studio Murena Vilpeyote, Terra Ross, Venerut, Carlo Amleto, Fido Guido saranno presenti anche tutti i conduttori delle 10 edizioni mancherà solo Luca Barbarossa che ha voluto comunque salutare Taranto con un proprio messaggio anche quest'anno Antenna Sud trasmetterà l'evento in diretta e integrale per tutto il giorno un appuntamento da non perdere l'1 maggio Taranto è interamente autofinanziato quest'anno si può contribuire anche attraverso l'apposito link sul sito produzionidalbasso.com Cosima è una donna brindisina che da anni vive in piccole case popolari con due figlie invalide per andare a scuola spesso chiamiamo i vigili del fuoco vi racconteremo la sua storia nel corso della trasmissione linea in diretta con Antenna Sud in onda giovedì alle 15.30 intanto ricostruiamo questa vicenda nel servizio di Fabrizio Cagliani Come ti trovi qui? Male Beh, non riesco a capire Voi un'altra casa? Lei è Rosalia, da dieci anni, come ci racconta la mamma Cosima vive in abitazioni assolutamente inadeguate alla sua condizione e a quella della sorella e entrambe sono invalide e devono fare i conti quotidianamente con enormi problemi Oggi alloggiano in questa casa popolare nel rione Sant'Elia Brindisi, 50 metri quadri senza neppure un balcone per andare a scuola ci racconta la mamma spesso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco È un anno che abito qua, è un anno però abitavo sempre nello stesso appartamento a fianco all'altro palazzo, al quarto piano dove io, mentre me ne sono scappata perché ho ottenuto l'ascensore per sei metri, rotta Questo è il bagno Facciamo tutto live, vedete? C'è uno scalino, per intenderci quindi prima cosa che non potrebbe andare bene Questa è la doccia dove devono lavarsi le ragazze che non possono entrarci cioè è proprio umanamente impossibile nelle loro condizioni Cosima chiede una nuova casa in polemica col comune confessa ad Antenna Sud da anni ha sospeso i pagamenti del canone di locazione Vi racconteremo la sua storia quella delle sue figlie nel corso della trasmissione linea diretta con Antenna Sud in onda ogni giovedì alle ore 15 e 30 Adesso vi raccontiamo un'altra storia ed è quella di Mohamed rifugiato che a 17 anni ha lasciato il Sudan per venire in Italia e dal dicembre del 2022 è a Lecce seguito dal gruppo umana Solidarietà Barbara Magnani Io ho dovuto lasciare il mio paese perché c'erano conflitti e c'era guerra e c'era anche minacce nei nostri confronti e ho dovuto lasciare la mia famiglia e il mio paese Tramite contrabbando io ho lasciato il Sudan La storia di Mohamed è quella di tanti giovani che lasciano il proprio paese con la speranza di poter costruire un futuro diverso per aiutare anche la famiglia Per lui in Sudan la vita era ancora più difficile da giovanissimo ha perso la vista e lì in una terra dove i conflitti sono all'ordine del giorno curarsi non era possibile come non era possibile lavorare per questo a 17 anni ha intrapreso quelli che vengono chiamati i viaggi della speranza un percorso lungo che l'ha portato prima in Libia e poi a 20 anni è arrivato in Italia e da dicembre 2022 è stato accolto dal GUS di Lecce Arrivando qua lui si sente in un paese sicuro le persone di Lecce sono brava gente veramente si comportano molto bene con me quando cammino per la strada percepisco il rispetto della gente mi sento proprio contento Mohamed segue con dedizione i progetti del GUS per cercare una propria autonomia io ringrazio tutto tutto lo staff del GUS perché veramente non mi fanno mancare nulla e mi stanno aiutando in tutto per tutto e mi stanno dando la possibilità anche di fare tante visite di cui ho bisogno inoltre gioca con l'Ascos Lecce ed è stato tesserato con l'Unione Italiana Cechi e il suo allenatore è felicissimo dei risultati e guardando al futuro Mohamed ha degli obiettivi ben precisi spero soltanto di potermi curare e di poter lavorare anche perché il mio desiderio è aiutare la mia famiglia che sta lì aiutare anche i miei fratelli per poterli mandare anche a studiare ci fermiamo per un break pubblicitario l'informazione di Antena Sud torna tra poco Ben ritrovati i disagi e problemi strutturali per gli impianti sportivi al coperto di Barletta il pala di sfida necessita di ascensori e nuovi sistemi di illuminazione ancora più grave è la situazione del pala Marchiselli piove all'interno della struttura Antonio Gargano disagi e problemi strutturali al pala di sfida e al pala Marchiselli due degli impianti sportivi al coperto di Barletta le problematiche già presenti da anni e soltanto sopite da interventi straordinari si sono nuovamente accentuate con il maltempo degli ultimi giorni il pala di sfida resta sotto controllo anche grazie all'utilizzo costante e attento nel periodo Covid durante il quale il palazzetto fu addibito ad hub vaccinale la commissione lavori pubblici del comune di Barletta ha effettuato un sopralluogo lunedì confermando la necessità di ammodernare l'impianto attraverso ascensori e un nuovo impianto di illuminazione ben diversa è la situazione al pala Marchiselli che durante il derby tra Barletta Basket e Cestistica Barletta ha dovuto constatare infiltrazioni e piogge all'interno della struttura una situazione che lo stesso sindaco Cosimo Cannito ha definito preoccupante per via degli spalti bagnati e di una sicurezza tutt'altro che garantita per gli spettatori necessario adesso sfruttare le risorse economiche anche con variazioni al bilancio appena approvato per rimettere in sesto entrambi gli impianti il pala di sfida è già nelle mani di un'impresa appaltatrice che ha presentato gli step di intervento il pala Marchiselli invece richiede la massima urgenza anche per la massiccia presenza di pubblico nell'arco delle ultime settimane le situazioni debitorie di alcuni proprietari di terreni ricadenti nei comparti C di Grottaglie sfociano nella dramma personale il racconto di Giuseppa stremata da tributi troppo onerosi prendetevi quel terreno ma lasciatemi vivere Valentina fa migliore a me mi serve la macchina più c'è solo una piccata macchina non me la pono la sai mi levano la macchina come ha già fatto fermo amministrativo di una vecchia macchina unico bene di Giuseppa 77enne ormai stanca di quel terreno ereditato nel noto comparto C5 a Grottaglie sul quale grava un debito per imu non pagata che ha portato la società di riscossione crediti a fermarle l'automobile questo mese mi hanno dato 680 euro proprio la pensione sono 6 e 20 620 euro al mese dai quali decurtare 250 di affitto bollette poca spesa Giuseppa con parole semplici senza farne mistero fa con noi i conti di economia domestica questo lì questo là dice cifre troppo onerose per condizioni di vita modestissime il comune si prenda quei terreni non voglio niente lasciatemi vivere ciò che mi resta serenamente mancio la pasta faccio una picca di di muddica di pane fritta e mi mangio più formaggio perché io non ci posso cattare per sanare la situazione debitoria l'avvocato avanza una possibile soluzione basterebbe all'amministrazione dice mettere mano al piano urbanistico generale al piano urbanistico generale con la possibilità di coefficienti di compensazione cioè in definitiva la signora potrebbe cedere praticamente in compensazione cubature avvocato è opportuno sottolinearlo che la legge va rispettata i tributi vanno pagati quindi in questo momento raccontiamo la voglia di poter far fronte a quella situazione debitoria sanandola però di essere messi nelle condizioni di poterlo fare perfetto ci siamo perfettamente capiti non siamo esperti della materia né abbiamo la presunzione di poter mai esserlo ci limitiamo a un semplice calcolo elementare che ci fa sorgere una domanda 620 euro al mese di pensione di reversibilità per 12 mesi è uguale a 7.440 euro pur privandosi di tutto ammesso e non concesso come riuscirebbe a saldare questa donna la sua situazione debitoria di 8.000 euro l'anno insieme per un enfiteusi sostenibile è presentato in provincia il progetto sulla riforma di un istituto giuridico medievale Anna Saponano sembra assurdo che amministratori impegnati a rilanciare sotto il profilo turistico i territori di competenza debbano nel 2023 impegnarsi per risolvere una questione che affonda le radici nel medioevo Matantè per questo nel palazzo di Via Deleu il presidente della provincia di Brindisi Tony Matarrelli ha chiamato a raccolta i sindaci del territorio per discutere di enfiteusi un balzello che di fatto vincola la destinazione d'uso di tanti terreni nel territorio brindisino sollecitare direttamente il governo con una proposta concreta quella che abbiamo elaborato e fissando diciamo alcuni punti o suggerendo al governo alcuni punti su cui intervenire nell'ordinamento giuridico che regola appunto l'istituto dell'enfiteusi noi chiediamo al governo di intervenire affinché questo costo che per molti agricoltori purtroppo incide in maniera grave possa essere ridotto ai minimi termini è davvero assurdo e paradossale tutto avrei immaginato in questa mia esperienza di primo cittadino tranne a dovermi confrontare con i miei coetani giovani coppi che vogliono acquistare una casa e quindi fare un mutuo e che sono impossibilitati perché ancora ci portiamo dietro questo barzello di epoca medievale e che non si riesce assolutamente a trovare una soluzione per questo come provincia di Brindisi insieme a tutti i sindaci vogliamo dire la nostra la città di Bari si prepara per i festeggiamenti di San Nicola e prosegue la selezione dei possibili figuranti sentiamo Domenico Brandon un po' è il nostro patrono quindi c'è fede e poi è un'emozione si avvicinano i giorni di San Nicola a Bari maggio è alle porte e fatta la festa bisogna fare anche il corteo storico non sono mancati i cittadini in fila al fortino di Sant'Antonio per sperare di prendervi parte che si tratti della prima volta o che vi siano già state esperienze in passato poco importa ogni barese che si dispetti preme per esserci e vivere sino in fondo la speciale ricorrenza che unisce la città tanta gente in fila come sta andando? stanno abbastanza bene anche ieri che c'è stato il cattivo tempo devo dire c'è stata una grossa affluenza sono emozionatissima comunque questa è la seconda volta la festa di San Nicola penso che sia la festa più grande più bella che ci possa essere a Bari quindi la vivo come sempre con tanto amore e con tanta felicità cosa significerebbe per lei sfilare nel giorno di San Nicola? per me è un ricordo di nonni perché comunque sono sempre stata devota e sono sempre stata con loro in ogni occasione appunto dalla festa di San Nicola e la sua volta numero? ho perso il conto che cosa ha fatto in passato? il marinaio il turco non ha molto fatto il re dipende poi in base alla strategia che c'ha Nicola Valenziano c'è qualcosa che le manca e che vorrebbe fare? andare proprio sulla caravella sempre una cosa bella perché non ci ho mai provato quindi ho sempre visto che non ho mai partecipato al corteo e da Bari a Lecce chat GPT e insidie dell'intelligenza artificiale incontro presso il liceo scientifico Banzi e per noi c'era Maria Teresa Carrozzo l'intelligenza artificiale che già è presente nelle nostre vite ma nelle sue versioni più avanzate e già la chat GPT ci ha fatto capire quali possono essere le evoluzioni modificherà completamente i nostri modi di vivere intanto modificherà il mondo del lavoro le professioni future cambieranno probabilmente alcune professioni non ci saranno più se ne creeranno delle altre questo quindi è un problema che riguarda direttamente le istituzioni scolastiche l'intelligenza artificiale con la chat GPT è stata una vera rivoluzione acclamata adorata utilizzata lodata guardata con pregiudizio chedicata e condannata fino a quando in Italia i problemi reali di privacy il garante ha richiesto maggiori garanzie e l'azienda fondatrice ha deciso di interrompere affino a nuove decisioni proprio per discuterne la dirigente del liceo scientifico Banzi ha organizzato un convegno noi dobbiamo riflettere sui vantaggi e sugli svantaggi ma non si tratta di decidere se accogliere o non accogliere una tecnologia una tecnologia esiste e non può essere giusta o sbagliata e corretta o non corretta e quindi anche se noi dobbiamo affrontare la questione sul piano etico e capire come deve essere gestita al meglio noi dobbiamo comunque integrarla nei nostri processi e con consapevolezza e responsabilità imparare a conoscerla e imparare a gestirla Ragazzi autentici il progetto del Girasole per prevenire intolleranze e discriminazioni verso i ragazzi autistici e disabili Antonella Daula Allora questo progetto è rivolto sicuramente ai ragazzi con autismo e disabilità cognitive ma è rivolto anche alle famiglie ai fratelli alle sorelle ai genitori e ai docenti Quello delle intolleranze e delle discriminazioni verso i bambini e i ragazzi disabili è purtroppo una ferita sempre aperta del tessuto sociale e culturale del nostro tempo focalizzare l'attenzione sull'inclusione di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disabilità cognitiva e prevenire e contrastare forme di violenza discriminazione e intolleranza è dunque l'obiettivo principale del progetto ragazzi autentici finanziato dalla regione Puglia con il bando Puglia Capitale Sociale 3.0 e attuato dall'associazione Il Girasole di Foggia da diversi anni oramai impegnata con tante attività per bimbi e ragazzi con autismo e difficoltà cognitive destinatari del progetto sono 60 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 22 anni e questo progetto mira proprio a contrastare la solitudine dei nostri ragazzi ma anche delle famiglie e dei docenti che spesso non riescono non sanno come affrontare anche con delle strategie comportamentali idonee ed efficaci alcuni comportamenti problematici dei nostri ragazzi e poi la cosa bella soprattutto è che mirerà a creare un gruppo un gruppo in cui i nostri ragazzi si sentano di farne parte però con i loro coetanei quindi coinvolgerà tutti attraverso le attività laboratoriali era questo nostro ultimo servizio e vi auguro buon proseguimento con la nostra programmazione arrivederci rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo a